Ciao a tutti amici di Youtube, qui Piazza 6 e benvenuti, benvenuti, malvenuti in questo nuovo gioco Five Nights at Freddy's, un gioco molto famoso, facciamo, potremmo fare new game, comunque siamo alla notte 1, è la notte più facile, ovviamente la notte 1 è la notte più facile, io l'ho già giocato questo gioco, è un'introduzione al gioco, qua moriremo di sicuro, mutiamo la chiamata, qui ci sono i pupazzi, gli animatronici, e sono Bonny, Chica, e questo qui è Freddy, l'orso, qui dietro questa tenda c'è Foxy, noi in questo gioco dobbiamo stare attenti a non tenere troppo tempo chiuse le porte, e a non, perché noi quando apriamo le telecamere, così con questo tablet, vedete qui sotto, Usage, qui adesso ne stiamo usando uno, non so cosa stiamo usando, ma credo il ventilatore, questo qui, guardate, se faccio così, così, così ne sto usando tanta, ma non devo usarne tanta, perché se no, ti faccio così, così e così, però quando apro le telecamere, cioè quando apro le telecamere che c'è la luce, la luce si spegne, ed è un bene questo, qua non so, il gioco è già la versione 1.13, non so come, ma lo è, ben controllare le telecamere, però non troppo, solo se ci sono loro, così, queste due telecamere, all'inizio, intanto io posso stare qui, perché la notte 1 è la più tranquilla, spero, ma sì, di sicuro, e sì, sono già le 3, non è ancora successo niente, strano, molto strano, siamo a 2 minuti e 40 di video, no, si stanno muovendo, alle 3 partono, alle 3 partono tutti, 4, sono le 4, 3, quasi 4, chica, che schifo, no, Bonnie è lì fuori, ho paura di lui, chiudo, ah, è lì, cioè, non l'immagine, ma è lì, dietro questo muro, di lì, senti passi, no? se è un po', è andato un po' più in là, no, anche chica, anche chica, sto così, Foxy, non so se si attiva, dov'è, ah, ok, sono già le 5, non ci posso credere, abbiamo finito la notte 1, quasi, 25% di power, possiamo farcela, ok, loro sono rimasti, ho paura di Foxy, magari si attiva, non mi si è mai attivato nella notte 1, eh, forse faremo anche la notte 2, mi avvicino un po', passi brutti, che non voglio sentire mai più, vero, che non li voglio, dov'è, chica? 6, si, 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 yeah, la zanzara, no, 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 la seconda notte la faccio nel prossimo video, yeah! Musica